Perché la meditazione è irrinunciabile in un percorso di crescita personale? Sono Filippo Ongaro, ideatore del Metodo Ongaro, un approccio scientifico alla crescita personale e all'aumento della prestazione. Se sei interessato a continuare a crescere, iscriviti a questo canale, clicca sulla campanellina in modo da rimanere sempre aggiornato. Con il termine crescita personale si intende un percorso di lavoro su se stessi che porta a trasformare i propri limiti in risorse. In sostanza è un percorso di lavoro che ti porta a migliorare la tua prestazione su tutti i piani. Può essere quello personale, affettivo, professionale e nel momento in cui noi aumentiamo la nostra prestazione ovviamente salgono anche i livelli di soddisfazione e di felicità. Non tutti sono pronti a riconoscere che si può crescere. La maggior parte degli adulti, diciamo, è un po' rassegnata su questi temi, cioè ritiene che una volta compiuta, finita la fase di sviluppo e di crescita alla conclusione, diciamo, della fase di giovinezza, si entra un po' in una sorta di staticità in cui non si riescono più a cambiare le caratteristiche personali. Quindi si finisce col esasperare un po' i propri difetti proprio perché si entra in questo stato d'animo in cui sono fatto così, non c'è niente da fare, per te è facile, per me è difficile. Sempre questi atteggiamenti che portano un pochino a pensare che non abbiamo nessuna nessun potere, nessun controllo sul nostro destino e sul nostro sviluppo nel corso della vita, però in realtà il fatto di scaricare la colpa sulla genetica, sulla sfortuna, sugli altri ci rende un po' ci procura un atteggiamento un po' vittimistico, un po' lamentoso in cui sì le cose magari non ci vanno bene, ma non abbiamo voglia di impegnarci in un percorso di cambiamento. Eppure la scienza conferma che cambiare è assolutamente possibile, non è che lo dico io, cioè lo dicono veramente moltissime ricerche, cambiare sul piano biologico perché sappiamo che i meccanismi dell'epigenetica sono più potenti addirittura delle informazioni contenute nel nostro DNA e sappiamo che possiamo variare l'attività dei nostri geni, cambiare grazie ai meccanismi della neuroplasticità in cui addirittura si adattano le aree del cervello in funzione degli stimoli che diamo al cervello. È chiaro, tutti questi adattamenti avvengono in negativo e in positivo a seconda degli stimoli che dai e se non hai controllo sulla tua vita, se non decidi consapevolmente che stimoli dare a te stesso, è chiaro che le cose verranno in maniera random, casuale e non otterrai probabilmente grandi effetti positivi. La meditazione entra a pieno titolo in questo discorso perché è una delle cose da cui cominciare per riprendere il controllo sugli stimoli che diamo al nostro organismo, in particolare al nostro cervello, per crescere nella direzione giusta. E anche sulla meditazione voglio essere molto chiaro, ci sono tonnellate di ricerche ormai che provano l'efficacia di questa metodica di intervento per migliorare una serie di parametri, sicuramente maggior calma e minor stress e quindi una miglior approccio alla vita, un senso di maggior fiducia e di maggior serenità, una percezione di maggior gratitudine per le cose belle che la vita di ognuno di noi fortunatamente porta in qualche misura, il miglior rapporto con gli altri perché miglioriamo il rapporto con noi stessi, forse in generale un più alto livello di consapevolezza su chi siamo, cosa stiamo facendo in questa vita e quindi meditare è davvero uno dei pilastri di qualsiasi percorso di crescita personale e sul piano neurologico gli effetti sono molto chiari, è una delle modalità che induce un adattamento di tipo neuroplastico più efficace cambiano letteralmente struttura alcune zone del cervello e proprio questo cambiamento anatomico che ovviamente richiede del tempo non avviene dopo due volte che mediti, è proprio quello che permette di passare da cambiamenti momentanei indotti dalla procedura stessa della meditazione a dei cambiamenti invece più stabili che possiamo veramente definire dei tratti e quindi è in un certo senso veramente oggi possiamo veramente sostenere che nemmeno il carattere, nemmeno quegli aspetti che reputiamo più stabili di noi stessi sono veramente così rigidi. Tutto può cambiare se facciamo un percorso intelligente che ci permette veramente di cambiare e purtroppo, ripeto, la maggior parte delle persone non sente questo stimolo, non lo sente probabilmente abbastanza forte o non ci crede abbastanza. Imparare a meditare peraltro non è così difficile come le persone credono, è un percorso, è un allenamento e quindi è chiaro che all'inizio ti sembrerà un po' strano ma mano a mano che ti eserciti ti diventerà molto più familiare e molto più facile. Peraltro se ti interessa imparare a meditare, se sei arrivato a quel punto della tua vita in cui ritieni che sia necessario cambiare qualcosa o se ritieni semplicemente proprio perché hai un desiderio di espanderti, di crescere nella tua consapevolezza, imparare a meditare può essere veramente il tuo il tuo lascia passare per una vita più serena e più bella. Nella descrizione di questo video trovi il link ad un corso che abbiamo creato che si chiama impara a meditare e che ha aiutato già tantissime persone ad avvicinarsi in maniera semplice e chiara a questa pratica quotidiana e diciamo a renderla piacevole perché poi meditare permette ad un certo punto di creare questa sorta di oasi nella tua vita quotidiana fatta appunto di serenità e calma in un momento storico come quello di oggi dove le tensioni, lo stress, sono così presenti nella vita di tutti che veramente abbiamo bisogno di abbassare i giri del motore e entrare in una nuova dimensione di pace in particolare con noi stessi.